Musica Musica Noi non siamo qua solo per Sara ma siamo qua contro tutte le vera Emilio d'Italia che so tante e ci stanno tante saree in giro per l'Italia e quindi noi siamo con loro e non le lasciamo mai soli. Tra un paio di giorni, quest'anno si chiama Pasquetta, io la chiamo 25 Aprile, questa per me è l'inizio di un nuovo 25 Aprile quando un popolo eterogeneo si sono auto organizzati e hanno fatto chiudere un negozio. Questa serranda abbassata per me è la risposta a tutti quelli che dicono che lo fai a fare, non serve a niente, chi te lo fa a fare, tanto comandano loro, noi gli abbiamo dato una risposta. Qui dentro è stata picchiata una ragazza, qui in Italia abbiamo un sacco di leggi che dovrebbero tutelarci e non vengono applicate, i sindacati hanno ormai 30 anni che non fanno il loro dovere, il primo maggio a Roma si sta compiendo un atto scelerato nei confronti di tutti i diritti di tutti i lavoratori, perché cogliendo l'occasione che c'è la beatificazione di un Papa vengono fatti lavorare i cittadini per forza, durante l'anno i lavoratori vengono tenuti al minimo sindacale, durante l'anno non si trovano soldi per il sociale, per la scuola, per i diritti dei lavoratori a Roma e in Italia, in occasione della beatificazione di un Papa si trovano soldi per tenere aperti dei costi, musei e mandare al lavoro chi dovrebbe stare a riposo. Questo cancello è chiuso e questa già è un'enorme vittoria, ci sono tantissime persone che lavorano qua dentro, proviamo ad andarci a parlare. Siamo pari in modo che il primo maggio tutto il paese, tutta la città, questo centro commerciale si è bloccato, che tutti possano scioperare per affermare i diritti che non sono più garantiti. Grazie! 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 Grazie!